della diffusione di certi prodotti, di certe tecnologie eccetera. Siamo pronti per una nuova intervista oggi, anzi in questo momento siamo con Stefano Vitta che è responsabile della community di FON. Non pensate che sia un nuovo strumento per i capelli, in realtà è un progetto di connessione a internet tramite il wifi. Spero di aver detto le cose giuste, comunque chiediamo maggiori informazioni a Stefano. Sì, FON è un progetto nato in Spagna che ha un'ambizione di creare una community per la condivisione della connessione tramite il wifi. In maniera molto semplice gli aderenti alla community attraverso un nostro router che è la FONERA, il nostro social router, installandolo a casa propria possono condividere parte della loro banda, del loro abbonamento internet con gli altri membri della community. E questo può portare dei vantaggi anche in termini di costi, quindi di abbattimento della costa della connessione wifi? Assolutamente, infatti l'idea proprio nata da Martin Barzaski che è il fondatore dell'azienda è stata basata su questo concetto. Io già a casa pago un abbonamento internet per connettermi appunto da casa ma quando esco e mi vado in ufficio, vado in giro, purtroppo non posso più usufruire di questo abbonamento. Attraverso il nostro progetto e quindi attraverso il wifi posso quindi collegarmi gratuitamente agli altri hotspot dei appartenenti alla community. Io condivido la mia connessione da casa per le persone che sono vicino a casa mia e quindi si possono trovare di passaggio vicino a casa mia e allo stesso tempo gratuitamente posso collegarmi agli altri hotspot degli altri utenti che hanno aderito al progetto. Mi sembra un'idea molto interessante anche perché in effetti poi uno quando non è a casa paga l'abbonamento ma non utilizza la sua connessione, per cui è un costo diciamo così morto. E se uno fosse interessato a questo tipo di progetto dove può trovare delle informazioni? Ovviamente c'è il nostro sito in italiano www.phone.com dove possono trovare tutte le informazioni, iscriversi e acquistare, ordinare il nostro router per aderire alla community. In più c'è il blog gestito da me dove appunto vengono aggiornati tutti gli eventi, le iniziative in corso e anche le promozioni. Bene, questo mi sembra un'ottima cosa nel senso che uno può trovare delle informazioni. Non dobbiamo dimenticare infatti che Stefano Vitta è anche responsabile di Bloggers. Quindi spenderei l'ultima domanda proprio per chiedergli cos'è Bloggers e come è nato questo progetto. Bloggers è una piattaforma per la creazione di blog, è nato nel 2003 e oggi conta più di 25.000 iscritti per la creazione di blog con servizi gratuiti o a pagamento e allo stesso tempo altri servizi a livello comunitario per la condivisione delle informazioni e per la condivisione dei post che vengono scritti dai singoli utenti. Anche con Fon abbiamo utilizzato molto la blogosfera per la promozione del progetto identificando blogger che trattavano materie attinenti alla nostra e abbiamo ottenuto notevoli risultati sia per la promozione e la crescita della community ma anche e soprattutto per avere subito un rapporto diretto con i nostri utenti che non sono mai dei clienti. Per Fon e anche appunto per Bloggers e per chi crea un blog non esistono clienti ma si tratta semplicemente di partecipare tutti insieme alla costruzione di un progetto che secondo noi e quindi secondo anche la community può portare a vantaggio a tutti e anche alla società. Bene, quindi direi per concludere darei ancora una volta ai nostri ascoltatori l'indirizzo dove possono trovare informazioni su Fon. Su Fon è www.fon.com e invece Bloggers è www.bloggers.it Bene, grazie Stefano, buona giornata. Grazie a te, Salve. Io sono quello dell'amicizia, del discorso dell'amicizia.